amici di youtube ben trovati da Marco Liguori avviso importante quando questo video dovesse superare i 500 like ne pubblicherò immediatamente per un nuovo ciao per avere subito online un nuovo video di Marco Liguori incredibile in questo video narriamo una macabra notizia il concorrente del grande fratello si è tolto la vita andiamo a leggere la notizia dopodiché commenteremo questa incredibile storia è giallo sulla morte di Miriam Rivera e lei la protagonista di questo video modella di 38 anni modella transessuale che fu la prima transgender a partecipare al grande fratello la donna di 38 anni è stata trovata senza vita nella sua casa di Ermosiglio in Messico prima di commentare la notizia andiamo a mostrare la foto di Miriam credo sia doveroso questa in foto e Miriam ripeto prima concorrente transgender del grande fratello in questi casi c'è poco da dire ovviamente qualora dovessero esserci sviluppi e ulteriori aggiornamenti su questa incredibile quanto macabra vicenda vi aggiornerò nei prossimi giorni o vi conoscerò sulla pagina facebook marcoli cuori news in questi casi non resta altro da dire condoglianze alla famiglia di Miriam Rivera davvero una brutta notizia condoglianze alla famiglia e come sapete su questo canale vige il concorso del commento del giorno l'autore del commento che apporta valore aggiunto al mio commento viene salutato in diretta il commento viene letto da me con queste modalità che vado a premiare gina lombardi che ci dice ciao mar iari carrisi è un bravo ragazzo cresciuto alla vecchia maniera come dovrebbe essere per la gioventù d'oggi in quanto alla caria cara nadia ha lasciato un vuoto non solo nello spettacolo ma anche nei cuori di tutti noi brava gina lombardi ovviamente il video a cui fa riferimento gina è il video della scomparsa di nadia toffa in questa sede volevo eh prendere dieci secondi per ricordare la sola e unica nadia toffa un angelo volato troppo prematuramente in paradiso cara nadia ci mancherai tantissimo il tuo sorriso per noi sarà indimenticabile così come la tua semplicità il tuo essere sempre giusto il tuo essere sempre dalla parte dei deboli il tuo schierarsi sempre contro le ingiustizie il primo canale di marco liguori ricorda ancora una volta non smetterò mai di farlo la sola e una nadia toffa io vi ringrazio per l'attenzione vi ricordo che i commenti del giorno fanno riferimento alla scomparsa eh al morte suicida della eh concorrente transessuale del grande fratello scrivete nei commenti cosa ne pensate di eh questo macapro fatto il commento più bello per al letto in diretto io vi ringrazio per l'attenzione lasciate i vostri commenti iscrivetevi al canale condividete questo video iscrivetevi al primo canale di marco liguori potete farlo in questo momento semplicemente cliccando il tasto iscriviti in basso a destra attivate la campanella per non perdervi le ultime notifiche lasciate il vostro mi piace anche alla pagina facebook marco liguori news grazie a tutti io vi auguro un buon proseguimento ciao alla prossima